Mario Gicconi, quante persone passano la mattina qui a camminare verso le grotte? La mattina posso dire che iniziano a percorrere il tragitto verso le grotte diciamo dalle 5 e mezzo della mattina all'alba fino alla sera anche notte. Cosa ti aspetti da questa nuova amministrazione comunale? Ma è un'amministrazione molto propositiva e mi aspetto qualcosa di bello e costruttivo. Il sindaco lo conosci? Sì, l'ho imparato a conoscere. 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 Sì, l'ho imparato. Sì, l'ho imparato a conoscere. Sì, l'ho imparato a conoscere. Sì, l'ho imparato a conoscere. Sì, l'ho imparato.